Ultima ora Romina Power operata d'urgenza, vediamo che cosa è accaduto alla cantante più famosa della televisione italiana. E' da un po' di tempo ragazzi che non vediamo Romina Power sul piccolo schermo, un qualcosa che ha fatto allarmare tutti i suoi fan e l'ultima news che arriva in queste ore dal web. Sembra infatti che dietro a questa sua mancanza ci sia un motivo ben preciso, un qualcosa che ancora una volta l'ha portato l'ex moglie di Albano sotto i ferri. Ma cosa è accaduto alla bellissima Romina Power? Grazie alla figlia Romina Junior possiamo darvi alcuni dettagli, lei stessa ha rilasciato dichiarazioni riguardo la mamma. Di sicuro molti ricorderanno il difficile passato di Romina Power, attrista che a causa di alcuni problemi di salute ha dovuto passare alcuni mesi addirittura su una sedia a ratelle. E ancora una volta ragazzi Romina si è dovuta affidare le mani dei dottori così che questi potessero dargli l'aiuto che stava cercando. Ed è proprio per trovare la forza di andare avanti che ancora una volta Romina Power si allontana dal piccolo schermo. A raccontare cosa è successo con una storia Instagram è proprio la figlia di Romina Junior che scrive ironizzando Moda Clinica 2022. Per fortuna ragazzi nulla di grave, si tratta di un normale intervento di routine al quale l'ex moglie di Albano si era sottoposta diverso tempo fa. Sono andata a trovare mia mamma, dice, in ospedale, è stata operata al ginocchio e adesso è impegnata con la riabilitazione, scrive la figlia di Romina e Albano. Invece dalla parte di Romina non c'è nessun posto, evidentemente sta cercando di ritornare pian piano alla normalità e di trovare le forze venute a mancare dopo l'intervento. Noi possiamo farle solo un grande in bocca al lupo a Romina Power. Noi possiamo farle solo un grande in bocca al lupo a Romina Power.